A me piace il laboratorio di cucina del mercoledì perché le prossime volte mi piacerebbe preparare le sfogliatine di mele. Gli ingredienti che servono sono i seguenti, pasta sfoglia, mele tagliate a fettine sottili, marmellata di pesche, due tuorli d'uovo, gelatina sciolta a bagno maria, infine si inforna a 180 gradi per 20 minuti. A me il laboratorio di cucina del mercoledì perché si preparano, lo si riuscano, il 12 mila piaccia di più fare mangiare assalto il nostro discorso. Dice una domanda che sono impassati e preferisco sono pensare di sentire e impassare. A me il laboratorio di cucina del mercoledì piace perché prepariamo delle ricette scelte dagli educatori, sempre diverse. In particolare mi piace impastare e sfornare. La ricetta che fino adesso ho apprezzato di più è la torta al cioccolato. A me mi piace il laboratorio di cucina perché abbiamo preparato la torta al cioccolato. La ricetta è la seguente. Ingredienti 200 grammi di farina, 200 grammi di tucco, 100 di cioccolato fondente, 50 grammi di cacao amaro, 5 uova, metà bustina di lievito, 50 millimetri di latte, un pizzico di sale, 200 grammi di burro. 1. Sciogliere il microonde o al cioccolato fondente. 2. In una casseruola mettere il burro tagliato a cubetti e lasciarlo ammorbidire. 3. Unire il burro fino a ridurlo in crema, poi aggiungere lo zucchero e battere di nuovo. 4. Unire il cioccolato fondente, aggiungere il pizzico di sale, farina, lievito e cacao amaro. 5. Versare l'impasto nella teia in un'area a 180 gradi per circa 60 minuti. 5. Unire il cioccolato fondente. 6. Unire il cioccolato fondente. 6. Unire il cioccolato fondente. 3. Unire il ricettchargello fondente. 7. Unire il strumentange di rich instruito di un ricettac resonates. 3. Unire il star traven in un'area a 100 mil futures. 8. Unire il cioccolato fondente è un��o piressori. 8. Unire il cioccolato fondente con il guesso di un livello. 9. Disci preguntas, avanzate unire i hier tutti pueden avlare. Grazie a tutti.